E' sicuramente interessante capire anche come ci si prepara al lancio di un'impresa. Da spiegarlo sono proprio Andrea Burocco e Hernan Solima, fondatori di Fluida, e quindi lascio a loro la parola per raccontare questo viaggio, questo viaggio dell'eroe che tanto appassiona la letteratura, appassionato anche loro, ed è stato proprio un viaggio a portarli fino a qui. Grazie Barbara, buonasera ancora a tutti. Io inizierò nel raccontarvi come io e il mio socio Hernan Solima siamo partiti in questa nuova e molto entusiasmante avventura con Fluida. Innanzitutto mi ha fatto veramente piacere risentire anche tutto il trascorso di Seven Like che appunto insieme ad Andrea abbiamo portato avanti e dal 2015 in avanti abbiamo continuato a collaborare all'interno di Tribù. Dopodiché, cos'è successo? Dopo qualche periodo appunto all'interno della nuova azienda ci siamo preparati, io e Hernan abbiamo preso una strada, invece Andrea ha continuato il suo percorso all'interno di Tribù, ci siamo preparati con una nuova iniziativa. era il 2017, Fluida sarebbe stata creata nell'anno successivo, inizio 2018, e sia io sia Hernan abbiamo iniziato a viaggiare, conoscere un po' di realtà nuove intorno al mondo. Nel mio caso questo periodo ha coinciso con un volo around the world, e quindi ho fatto un volo che mi ha portato da est verso ovest a visitare il Sud America, il Nord America, il Giappone e la Cina. Hernan parallelamente ha iniziato a vivere un'esperienza molto interessante a Barcellona, che come saprete comunque è una delle culle delle start-up europee, ed entrambi abbiamo visitato, poi ci siamo anche trovati in Sud America insieme, abbiamo visitato in diverse città al mondo, diverse situazioni, quindi abbiamo vissuto, incontrato imprenditori all'estero, siamo andati a visitare start-up in ambito digitale, o anche non solo start-up, io ho avuto anche la fortuna di andare nella sede di Google e visitarla con una persona che lavorava al suo interno. È stato un periodo veramente dove ci sono stati tantissimi scambi, dove abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con realtà, culture e situazioni diverse, ma è stato sicuramente un periodo arricchente, perché tornare a casa con questo bagaglio di esperienze, con questa energia anche che abbiamo in qualche modo raccimolato all'interno di tutte queste situazioni, ci ha consentito di partire un po' con il turbo, e forse anche un po' con una duttilità mentale che prima di queste esperienze non avevamo. Di conseguenza, o comunque sia durante il viaggio, sia nei periodi immediatamente prima rispetto alla costituzione di Fluida, abbiamo avuto l'occasione di incontrare centinaia di persone. Forse si potrebbe parlare anche di migliaia, però è veramente importante, secondo il nostro modo anche di vivere una preparazione, un viaggio, una nuova azienda, confrontarsi con quante più persone possibili. E da qui siamo partiti, quindi ovviamente abbiamo fatto eventi, abbiamo incontrato persone, imprenditori, aziende, potenziali investitori, chi più ne ha più ne metta. Un aneddoto che ci piace ricordare sia a me sia a Hernan, è che durante, e qua c'è anche una foto in alto a destra, che diciamo testimonia i nostri primi passi all'interno di un co-working. Eravamo in uno dei principali co-working business center qua a Milano e ogni giorno lavoravamo in un'area appunto comune, dove passavano ovviamente centinaia di persone. Ogni giorno, incredibilmente, per mesi, abbiamo incontrato un minimo due o tre persone per appunto per giorno, che derivavano o da esperienze precedenti oppure dal nostro network in generale che ci eravamo creati all'interno di Seven Life, di Tribù e anche dell'altra startup, che stile, che citava prima Andrea. In questi continui confronti, in questi continui incontri con queste persone, ci siamo aperti dal punto di vista della condivisione rispetto all'idea che stavamo perseguendo, rispetto a tutte appunto le idee di business che ci erano venute in mente e che avremmo voluto realizzare. Quindi sicuramente un consiglio che io do quando mi viene chiesto è di confrontarsi con quante più persone possibili e non aver paura di condividere la propria idea perché da questi incontri abbiamo tratto tantissime informazioni, ispirazioni e consigli utili. Sì, ecco, i tanti stimoli esterni che abbiamo avuto dai posti, dai luoghi, dalle persone che abbiamo incontrato ci siamo lasciati contaminare, diciamo, da cose che non conoscevamo per aprire la mente, aprire nuovi cassetti nella mente e pensare in maniera differente su alcuni aspetti. Altre cose invece le siamo andati più a cercare volontariamente e ci siamo informati su quelli che poi successivamente si sono effettivamente dimostrati dei pilastri dell'iniziativa che abbiamo fondato, tematiche su cui avevamo già delle conoscenze pregresse, ma diciamo che operiamo in un ambito, quello della tecnologia, dove quando sei preso, come lo eravamo, ad esempio, nei tempi di Tribù, la società che ha acquisito Seven Like, con un ruolo manageriale e quindi un lavoro molto intenso, diciamo, la giornata era molto intensa e quindi non sempre hai la modalità di coltivare lo studio di nuove tecnologie. Tecnologie anche complesse, come ad esempio la blockchain, che richiede parecchio tempo per essere compresa, elaborata, e questo studio avveniva sia attraverso libri, materiale in rete, sia la partecipazione di eventi appunto in Italia e all'estero. Tra questi sicuramente l'inbound marketing, ovvero la capacità di gestire dei contatti che arrivano dalla rete e farli fruttare al meglio attraverso tecnologie anche di automation e le dinamiche dei software as a service, di cui, diciamo, non conoscevamo, ad esempio, quelli che sono le terminologie, le metriche, come oggi invece sono all'ordine del giorno per noi, di che cos'è la RR e altri KPI, coste acquisizione clienti, fondamentali, e soprattutto andare anche a analizzare. A me piace molto quando leggo cercare storie di aziende, di imprenditori che hanno fatto un percorso positivo, un po' come nell'evento di oggi. Trovo spesso ispirazione dalle storie di altre persone, dalle storie di altri imprenditori. E nel software as a service, il campo che abbiamo scelto, quindi andare a individuare chi sono le realtà a cui ispirarsi e nel senso buono anche copiare, perché comunque per innovare bisogna partire da delle basi che sono già evolute per poter fare un ulteriore passo avanti. Poi, vabbè, la metodologia agile e l'in che poi approfondirò sono tuttora la chiave della nostra soluzione. L'idea, invece, è stata costruita come parte di un percorso. Cioè, non siamo partiti e suggeriamo a tutti di non partire, anche se a volte c'è il sogno di un'iniziativa che può essere il motore, la scintilla che accende l'idea di fare le start-up. Però, bisogna essere bravi da imprenditori a scegliere l'idea e modificare l'idea, perché la maggior parte delle start-up di successo hanno cambiato molto rispetto alla loro idea originale. Noi avevamo tre idee di business, una legata allo studio della blockchain, in criptovalute, ci aveva portato a voler applicare diciamo un'interfaccia più user-friendly in un mondo che è, diciamo, abbastanza complesso. Oggi, già più comune, magari a qualcuno di voi è capitato di investire in criptovalute 4-5 anni fa c'erano meno strumenti e avevamo pensato di fare qualcosa in merito. L'abbiamo abbandonato per la complessità e i rischi normativi di un settore che è ancora molto in evoluzione. Shop account era invece un'idea di business legata al retail, quindi al mondo e-commerce che conoscevamo in qualche modo poter offrire un sistema di gestione degli ordini molto più evoluto a tutti quei player retail che oggi si trovano a competere con Amazon che fa proprio dell'account cliente il suo punto di forza principale cioè conoscere il cliente e aiutarlo a trovare i suoi ordini. E ultimo, LimeWork quello che era il nome in codice del nostro progetto poi fortunatamente abbiamo avuto l'ispirazione per un nome migliore in uno dei tanti eventi a cui abbiamo partecipato si pensiamo a parlare tanto di lavoro liquido ed è lì è nato il nome Fluida e quindi proprio Fluida è stato LimeWork il software di gestione personale è stato poi quello scelto perché veniva da esperienze diciamo dove da imprenditori sentiamo l'esigenza di innovare nella gestione del personale per le piccole e medie imprese effettivamente è stata una soluzione che oltre a noi anche proprio il mercato ed è qui un consiglio importante cioè applicare la metodologia all'in startup abbiamo ogni giorno uscivamo sul campo era divertente a volte anche un po' stressante quando arrivavi alla sera il giorno prima eri convinto che non so il software per il retail era la soluzione migliore poi uscivi e confrontavi ti confrontavi con altre persone parlando e cambiavi idea quando abbiamo definito che a un certo punto la soluzione che aveva più chance era quella del mondo HR siamo andati attraverso il nostro network attraverso l'uso intelligente delle vendite su LinkedIn siamo andati a incontrare centinaia di imprenditori che potenzialmente noi non ancora non sapevamo se eravamo in target per piccole medie grandi aziende era tutto da scoprire e siamo riusciti a ottenere in pochi mesi 30 preordini il preordine è un documento importante perché è un documento che non ha un grande valore legale ma nel momento in cui un imprenditore è disposto a mettere una firma in un foglio con un prezzo è un segnale reale di interesse perché altrimenti molti possono dirti sono interessato quando avete sviluppato questa cosa avvisatemi ma poi non comprano invece noi praticamente quindi abbiamo poi definito un MVP cioè una versione minima del software che ci permettesse di andare sul mercato sviluppata in pochi mesi e a quel punto rilasciata la versione beta avevamo già i nostri primi 30 clienti dal giorno zero e questa è stata la base su cui poi nei mesi successivi abbiamo costruito il resto del percorso esatto abbiamo costruito il resto del percorso e abbiamo preso tanti schiaffi l'abbiamo l'abbiamo messo un po' sul comico questa chiusura però credo che sia la slide più importante non non pensate di iniziare una una startup un'iniziativa un nuovo percorso senza prendere tantissimi no e questi no passano da tutti passano dai clienti passano da imprenditori passano da amici a volte anche parenti passano dagli investitori che andrete a interpellare per partire con la vostra con la vostra idea di business io e Hernan abbiamo veramente avuto delle giornate in cui tornavamo a casa e dicevamo eh oggi abbiamo preso un bel po' di schiaffoni però questi schiaffoni sono sempre serviti a migliorarci a portare avanti comunque nuovi stimoli di ragionamento e non lasciarci abbattere sapevamo che c'erano tutta una serie di segnali e metriche che raccoglievamo giorno dopo giorno positive e questi e questi segnali e queste metriche sottolineo metriche perché spesso cosa succede ci si innamora dell'idea e quindi con difficoltà la si abbandona anche se magari le metriche che stiamo raccogliendo non sono per niente positive e i segnali appunto ci stanno remando contro nel nostro caso come nel caso di tantissime altre start up di successo invece i segnali e le metriche erano erano positivi e nonostante tutti i grandi schiaffoni che ci siamo presi noi abbiamo continuato nella nostra iniziativa e siamo riusciti a realizzare una exit in 15 mesi con il gruppo Zucchetti allora abbiamo una domanda in chat e chiedono se dopo le start up di successo che avete realizzato avete intenzione di realizzarne altre se qualcuno vuole rispondere si rispondo io allora premesso che lavorare con i due Andrea io con Andrea Bortolazzi ho iniziato a lavorare a 18 anni abbiamo aperto insieme la partita IVA quindi ormai sono circa 20 anni che facciamo esperienze imprenditoriali insieme e quindi impone il nostro DNA oggi però abbiamo la fortuna di aver trovato nel gruppo Zucchetti che ha creduto in noi uno spazio dove si lascia all'imprenditore diciamo spazio di manovra spazio di movimento che è quello che ogni imprenditore ha bisogno per poter mettere in campo il suo valore e quindi oggi il gruppo Zucchetti che è un gruppo software con circa un miliardo di fatturato numero uno in Italia sul software per noi è un'esperienza che vogliamo diciamo vivere vivere al massimo è una grande opportunità sul software in questo momento SAS c'è tanto da fare quindi speriamo di poterlo fare all'interno di questo gruppo bene aggiungo aggiungo scusa Barbara che essendo appunto come dicevo nel nostro DNA essendo ancora chiamiamoci quasi giovani chissà insomma io spero che in futuro ci saranno nuove esperienze siano sempre con con il team con cui insieme so di poter diciamo raggiungere risultati importanti grazie a tutti